Nascondino con gli animali! Fai vedere, fai vedere, fai vedere! Opla! Magia! Allora, non solo è il nascondino con gli animali, ma sarà pure mini animali Perché abbiamo combinato la mod per riascronarci gli animali con la mod per diventare piccoli 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 Con una casa che avevamo già utilizzato ma che questa volta pone il piano di sopra E quindi saremo animali che diventano minuscoli che si nascondono in giro per la casa Insomma, sarà divertentissimo Allora Fede, vuoi partire nascondendoti o cercando? Fammi capire un pochettino le tue intenzioni Cercando perché io in questa casa mi perdo sempre Quindi io devo andare a nascondermi? Sì, devo avere sempre qui cinque minuti di nuovo per ambientarmi perché è davvero enorme Allora, girati che decido già anche cosa trasformarmi perché ci devo pensare Ok, aspetta, torno al normale e mi metto qua Ok, non mi vedi giusto? No, non ti vedo, vedo il legno in questo momento Cosa potremmo diventare? Cosa potremmo diventare per questo primo round? Secondo me, lui Fatto? Ho due cuori Vabbè, ora devi andare a nasconderti No, vabbè Steph, non ti posso guardare quindi non mi dire queste cose Mi muovo saltando Vabbè, mi hai già detto tutto, Steph E che cosa, no? Un coniglio Esatto Ovviamente Ma che bellino, una figata Vabbè, tanto non è importante Essendo piccolo comunque sarà difficile lo stesso trovarti Quindi vai, vai Lo so, lo so Allora, dove mi nascondo? Dove mi nascondo? Non è male lì Però forse mi noterebbe Quindi continuiamo a cercare un bel nascondiglio Ok Sto anche già pensando quanti minuti darci per trovarci Perché Eh, devi considerare che questa casa è bella grande Quindi ci vuole un pochettino anche solo per esplorare tutto Esatto E contando che c'è il secondo piano anche di più stavolta Esattamente Quindi, boh, rifletti bene, rifletti bene Ok Ok Hai fatto? Quasi Ok Sto facendo una roba di precisione Va bene Finito? Sì Ok Posso andare? Sì, puoi andare Allora Avvio il timer Facciamo che hai Quanto vuoi? Tre minuti, tre minuti e mezzo Quanto vuoi che ti do? Dai, tre minuti e mezzo Tre minuti e mezzo Ok Precisi, precisi? Ci sta, sì Ok Allora Non lo so Non lo so Conoscendo Fere Penserà di conoscermi E quindi è andata al piano di sopra No No, non è andata al piano di sopra Attenzione, è astuta Perché lo so che avresti pensato Che io sarei andata al piano di sopra E magari l'hai evitata Sì, perché io pensavo Che tu pensavi Che io sarei andata al piano di sopra Dato che è la novità E quindi ho detto Non vado al piano di sopra Perché è la novità Però magari sto facendo Che succede, cara? Ho perso metà vita Perché? Non lo so Non lo so Non ho capito cosa mi ha fatto danno Ma ti giuro che ho perso metà vita Magari Steph ha pensato Che lei avrebbe pensato Che io ho pensato E quindi in realtà Sono al piano di sopra E tutto questo Non si sa Potrebbe essere un modo Per farla andare lì A perdere tempo Potrebbe essere il modo Per confonderla ancora di più E farle controllare Tutta la casa Tranne che il piano di sopra E quindi Steph poi vince Comunque l'unica cosa che sai È che sono un piccolo coniglio Esatto Però non sai neanche di che colore Lo sai? Vabbè Non penso che sia fondamentale Il colore, no? Vabbè Quando cerchi Capito? Magari stai cercando un po' Un colore specifico E in realtà Magari sono di un altro Comunque un minuto e quindici È passato E Fere la vedo già in difficoltà Te l'ho detto Sai cosa ho pensato di geniale? È grande la casa Posso condividerlo con te? No Perché purtroppo non lo posso fare Se mettevo anche lo squid Come animale Potevo nascondermi sotto la piscina Piccolo piccolo Ci ho pensato anche io Ma secondo te riesce a respirare? Secondo me sì Contando che il coniglio cammina Solo saltando Secondo me sì Ok Vi informo che Fere è andata Al piano di sopra Non si fida Vabbè ho finito il piano di sotto Non è che L'ho finito Non dirò che sei di nuovo Sotto il letto che non si vede Non sono sotto il letto Che non si vede Fere Non sono così cattivo Un po' di più Ok Un po' di più Va bene Fere sta diventando anche piccola Sono passati due minuti Avevamo detto tre minuti? E mezzo Tre minuti e mezzo Quindi è ancora un minuto e mezzo Dai non è poco eh Non è poco per trovare il coniglio Più furbo di sempre Vuoi sapere il mio colore? Vai Non penso che sia fondamentale Frudimi Sono un coniglietto nero Ok Bellino bellino Ok Molto carino E sto saltellando quella Tra l'allero tra l'allero È impossibile vederti Cioè sta casa è una cosa assurda E lo so ma L'abbiamo già fatta Quindi Fere non è neanche difficile E lo so che l'hai già fatto Però sempre i nascondigli Sono tanti da controllare Cioè è impossibile Non lo so Comunque tre minuti e mezzo Sono tanti Pensa che manca ancora un minuto Tu pensa quanto è Secondo me non sei sopra No esatto Non sono sopra cara Non mi è sembrato di vedere niente di strano Vediamo la cucina Eh la cucina è difficile da controllare Lì si perde tanto tempo E noi siamo tanto felici C'è un effetto strano nel lavandino Che mi sembravi tu piccolo Davvero Eppure Ok Eppure Penso se fossi un coniglio dentro il forno Vabbè Sarebbe bellissimo Non sarebbe opportuno Però non ci posso andare Tre minuti Mancherà soltanto venti secondi Mi sa che ormai Anche se volessi Non potreste arrivare in tempo Mi spiace Quindi 1-0 per Steph Allora Ma io continuo a girare negli stessi posti Poi in sta casa maledetta Ero qua Al laboratorio Dov'è il laboratorio? Se lo faccio vedere il mio schermo Dov'è il laboratorio? Ero dietro il mappamondo nel laboratorio Dov'è il laboratorio? Il laboratorio è in una delle due parti Negli estremi Sì ma io continuo a girare Nelle stesse parti Te l'ho detto che mi perdo È troppo complicata sta casa Troppo Ma solo tu hai questo problema Aspetta no sto cercando anche il laboratorio E dove? Qui Ah ok Ho saltato sta stanza Eh lo so Perché erano troppe Impossibile Ciao Fere Vedi come è salta là? Io non sto premendo per saltare È bellissimo È bellissimo È troppo carino Allora un attimino Mi devo dare del cibo Ok Io non so come No tieni 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 Non so come Ho perso metà vita quindi Io non mi dimentico mai Allora quindi Torniamo al punto di partenza Fere puoi rimanere già in giro Che strano Vabbè Puoi rimanere già in giro Puoi trasformarti già Ok Nell'animale che vuoi Io torno esattamente nel corridoio iniziale E niente E aspetto che ti nascondi Fai un bel nascondiglio Mi raccomando la casa è enorme Non è difficile trovare un bel posto dove nascondersi Io devo tornare Steph Che altrimenti qua saltellò tutto il tempo Allora io ho visto Ed è un casino Ed è un casino Secondo me è bello Però lo devo ritrovare Perché qua è la cosa complicata Ritrovare le cose che vedo Io mi risistemo il timer Ripristina Ok Quindi avrò tre minuti e mezzo Ok Io voglio fare tipo Non è molto Non è molto Però la casa la conosciamo Vediamo se fa Va bene Mi trasformo Vediamo un pochettino È indecisa anche sull'animale Questo si abbina secondo me Ok A livello di colori Ok È furba È furba Ha capito Come sfruttare l'essere un animale Ma non lo posso fare Non lo può fare Signori No Ci fa tendere Ci fa tendere Non rompere Allora mi metto La pressione mentale È parte del nascondino Cioè È un lavoro Importante del nascondino Perché tu magari puoi scegliere di fretta Dove nasconderti Ok Ce l'ho fatta Penso di aver buggato la mappa Ma ce l'ho fatta Ok posso andare quindi Fammi vedere come mi vedo Sì va bene vai Ok Allora Aspetta Avvio il timer Pronta Sì Let's go Vai 3 minuti e 30 Allora Lei ha pensato Che io non ho pensato Che lei ha pensato Vado al piano di sopra Punto Ok Non è proprio il piano di sopra Steph E ho lasciato tutte le porte aperte Già dall'altro round Quindi non pensare Ah ce l'ho portata aperta Quindi non lo Lo so cara Però stai già difendendo un po' troppo il piano di sopra Per quanto mi riguarda No perché poi so che inizia a fare i ragionamenti Ah sì c'è la porta aperta Quindi No 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 Sto dando anche degli indizi Che vuoi Lei sta difendendo un po' troppo La sua posizione Allora ho bisogno solo di sapere una cosa Per cercare in un certo modo Ok Si è incastrata in modi osceni No 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 Ok Te devo cercare Cioè penso che se passi di qua Mi vedi Ok È abbastanza normale Dai non sono dietro cose non visibili Da te adulto È quello che volevo capire Da te grande Ok Allora Quindi qua non dovrebbe essere Incastrata in questi modi così Non dovrebbe E allora andiamo Allora che altre stanze ci sono qua Ah però c'è anche il pianoforte Ok Cioè sono due Se lo ricordo male Perché te lo ricordi così bene cara Perché io ti ho cercato lì per tanto tempo Forse perché ti sei nascosta qua Eh sì non lo so Steph Controlla Controlla Non sei simpatica Tu non sei simpatica Allora controllo anche questa stanza Dopo che il piano superiore lo abbiamo tolto Quindi stiamo a vedere Allora qua potrebbe essere Secondo me ti ho fregato con questo round Sì Sono anche abbinata al posto in cui sono Quindi è perfetto Ha questo feeling Mi sto mimetizzando Capito è quello Sono preoccupato Sono abbastanza preoccupato Allora vediamo qua sotto Veloce No Niente Ok È maledetta sta casa Steph Dimmi che non è stressante Guardare in tutte quelle stanze Due minuti passati E ho fatto solo il primo piano Vedi vedi Sono troppo pochi i tre minuti Cavolo è una casa immensa Cioè controllare in tutte le stanze In tutti gli angolini È davvero troppo difficile Non ce la posso fare Vero Vedi la sensazione Steph Che ti opprime Non ce la posso fare Allora ti dico già Che se non ti trovo Facciamo lo spareggio Solo al piano di sopra Che c'è davvero pochissimo Ok Con solo un minuto di ricerca Ci sta ci sta Così vediamo chi è il campione Perché qua inizia a temere Che non ti troverò In questa casa è sempre difficile Decretare chi sia il campione Steph È davvero complicato Lo so È davvero gigantesca Sì Ma non è che lei Quanto è passato Steph? Hai un po' di paura secondo me No perché Due e quarantacinque Non voglio guardare il tuo schermo Per vedere dove sei Capito? Anche se io non mi sto muovendo Sono qui che gesticolo Quindi È niente Due e quarantacinque cara Ok La stessa stanza Non lo farebbe mai Non è roba da fare Però sarebbe una buona idea Tu non lo dai mai Cioè dici sempre Non si nasconderebbe mai Nella stessa stanza E invece è lì Che ti dovresti nascondere Sì ma tanto Non l'hai fatto Quindi Il mio ragionamento Funziona sempre Perché il mio era più cattivo Non lo penseresti mai Questo posto È quello il fatto 3 e 15 Devo già rendermi Perché non faccio in tempo Ah vai al piano di sopra? No Vai? Cioè ti sono passato vicino? No Perché non ci hai pensato a sto posto Esci nel balconcino Dai c'è un balconcino aperto Che si vede lontano un miglio Dove? Non me lo ricordo dove Qua? Eh sì Gira a destra A destra Lì sotto Lì sotto No sotto la Il ponte Il ponte Il ponte Mi vedi? Mi metti zato Nello stesso colore Più o meno Perché io sono un po' più grigiastra Non è che sono proprio bianca Però ci stava Va bene Eh oh non mi hai vietato il balconcino Steph Non me l'hai vietato Va bene Ok quindi Ciao Steph Sono pecconella grigia Ciao Steph Ciao Steph Facciamo solo pieno di sopra E parti tu a nasconderti Perché? Dovresti partire tu? No perché ti voglio fregare Dai Steph No parti Solo Steph parti tu Fere vai Cambia animale Che noioso Torna a grandezza normale Nasconditi in fretta E io avrò soltanto un minuto per trovarti Solo un minuto Fere Allora per ora mi metto normale Ok Perché riesco a cercare così E poi quando ho trovato il posto perfetto Mi trasforma Io sono agguerrito eh Ok Te lo dico Adesso ti distruggo Adesso ti distruggo Fere Cioè proprio Spapapam Ho un minuto Ti trovo in 25 secondi No non penso proprio Non so dove andare Non è che ci siano così tanti posti Lo so È un po' un disastro Lo so Ma lì dietro ci passo? Sta cercando un incastro raga Sta cercando un incastro E sono preoccupato Sono abbastanza preoccupato dell'incastro Ce l'hai fatta? Sì adesso mi sto mettendo Cioè a forma di animale No? Ok Sì ok Stavo prendendo danno Perché pensavo di essermi incastrata Posso andare eh? Un pochettino più avanti è andato Sì vai Ok Anche questa volta Penso di essermi abbastanza abbinata di colore Mi piace fare anche I mimetismi Stef Allora Allora Ok Cavolo È davvero poco minuto È davvero poco minuto Qua sotto non c'è Eh lo so Poi Vediamo dove stai controllando Ah bene Controlli tutti i posti Beh perché ho capito Che sei andata ad incastro cara Eh certo sì Mi è chiaro quindi Beh non sono tanti i nascondigli qui sopra Stef Non c'è molto Le stanze sono molto aperte 45 secondi No 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 Quindi devi per forza andare a incastro eh No 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 Niente No Ma sei sentito il mio verso Sì ma non ti vedo Andato Dov'eri? Sotto il letto Sotto il letto? Come hai fatto? Sono entrata incastrandomi malissimo Ma qui? No dal centro Alla fine sono riuscita a incastrarmi Quindi hai copiato pure un nascondiglio vecchio di Stef Sì esatto Qua Sì Cioè hai fatto così E poi sono tornata a 1.8 Quindi sono incastrata lì sotto E non posso più uscire vedi? No basta che l'enti normale Non posso più essere Ok ce l'ho fatto Ok Ok tocca a te Stef Allora vai al centro del corridoio Vediamo se mi andrà meglio Ok torno normale Non l'avrei trovata comunque Non faccio un tempo Dai ho fatto anche un nascondiglio banalissimo La prima cosa che si fa Si controlla sotto i letti Allora dove sei? Qui ferma a guardare il marmo Stef Eh ma non ho capito in che punto Al centro del corridoio Ok Vai Ah ti ho visto Allora diventiamo Sai cosa diventerà Stef? Questo Un ocelot secondo me No Hai indovinato? No Un lupo? No Una mucca? No Dai invece si era uno di questi tre per forza Perché? Boh Perché mi ispira uno di questi tre Ok 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 Sei pronta? Si Hai già fatto? 3 2 1 Via Ok Vado Ho paura Ho molta paura Allora mi tengo il cronometro vicino Non sei andato di nuovo sotto i letti? Fede è in una stanza no cara? Che mi fa perdere un sacco di tempo 25 secondi E avrò pochissimo un minuto Eh si La vediamo nella stanza blu Che si appresta A cercarmi Ed esce Dai dove cavolo sei? 35 secondi Allora se mi vedevi così bene Ah O sei in qualche corridoio? Ok 50 Eh dai no Non fa Steph Porca miseria La mia vendetta 55 56 57 Un minuto 58 Sei nel piano 59 Un minuto Lo so che sei nel piano Dove sei? Nel corridoio Dai Dove? Guarda bene Non proprio al centro Qui? No Dall'altra parte Dove ci sono le fence? Ok Ok Qua Le fence Fede le cose Le iron bars Sono gli iron bars Iron bars Infatti Quindi che mi stai a di? Eh guarda gli iron bars Eh sto guardando Continuo a non vederti lo stesso Dall'altra parte? Cioè dove sei? Cioè anche cercandoti e sapendo dove sei non ti trovo? Esatto Sei vicina Niente? Mi hai superato? Cioè non ti vedo Ti giuro O sei bugato Ferma Quella? Questa? Sì guarda bene E vabbè Ciao Dai era impossibile Era impossibile Cattivissima questa Lo so Dovevo assicurarmi Allora il pareggio In questa casa secondo me si può finire solo in pareggio Anche secondo me Pecca di nascondigli Troppe cose complicate Però è bella È bella Ma l'hai vista questa cosa Fere? Cioè secondo me il nascondino con gli animali deve diventare costante nel canale Pronta? Vai No vabbè Bellissimo Cioè E tutte le caratteristiche È una figata pazzesca Bellissimo Bellissimo Ci fermiamo così Qua sotto compariranno altri video Lasciate un botto di like se volete rivedere animali Combinato a diventare minuscoli in altre location Quindi fateci sapere assolutamente se lo volete rivedere Ci fermiamo così Ciao 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 ciao